Furti, temporali, sbalzi di corrente, lavori pubblici nei dintorni dei vostri ambulatori sono all'ordine del giorno. Per non parlare poi delle fonti di luce che non rientrano di solito nelle pollizze assicurative ordinarie. E allora è importante attivare una copertura per i vostri investimenti e il vostro capitale contro qualsiasi evento che possa deteriorarli. Per una professione serena, scegli le garanzie giuste per te.